Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, come sempre, ben ritrovati qua nel disordine usuale e a voi ben conosciuto della mia libreria. Allora, 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 cari signori, torniamo a parlare di un libro che è divenuto in breve tempo tra i più importanti della mia libreria, della mia biblioteca. Parlo di questo, la meccanizzazione dell'esercito fino al 1943 di Lucio Ceva e Andrea Curami, a cura dell'ufficio storico dello Stato Maggiore dell'esercito. Opera importantissima, opera, oserei dire, fondamentale per comprendere come avvenne il passaggio dal cavallo al motore, ecco, opera essenziale anche per comprendere certi meccanismi della nostra partecipazione alla prima e soprattutto alla seconda guerra mondiale, ok? Allora, Ceva e Curami, in questo libro, questo è il secondo volume, la parte documentale dell'opera, dicevo, l'amico Tony De Mario mi ha fatto veramente un regalo eccezionale, con una straordinaria e splendida generosità e in questa parte, come dire, documentale dell'opera di Ceva e Curami sono presenti tutta una serie di documenti, lettere, relazioni, immagini e tutta insomma una serie di, tutta una serie di dati estremamente utili per capire certe cose. Allora, Ceva e Curami hanno recuperato un documento risalente al 7 agosto 1940 da parte del quarto reggimento fanteria carrista. Allora, state un po' a sentire che cosa hanno recuperato i due ricercatori italiani. Allora, questo documento che è a pagina 211 del secondo volume di quest'opera è il cosiddetto documento numero 37. Allora, quarto reggimento fanteria carrista, pondere et igne iuvat, comando, numero 208 OP, zona di operazioni, 7 agosto 1940, diciottesimo anno dell'era fascista. Oggetto insegnamenti tratti dal combattimento del 5 agosto 1940, sempre diciottesimo anno dell'era fascista. Al comando superiore delle forze armate Africa settentrionale e, per conoscenza, al comando del ventunesimo corpo di armata. Sturatevi bene le orecchiucce, signori. Il video sarà un po' lungo perché l'argomento, cioè come dire, il documento è piuttosto lungo ma l'argomento è interessante. Quindi cercate di mantenere la concentrazione, cari signori, e ascoltate bene. Allora, il combattimento del 5 agosto, svolto da una colonna leggera corazzata contro unità similari inglesi, ha posto in evidenza quanto segue 1. Carro armato M11A Armamento del carro M11 È stato confermato dai fatti l'errata sistemazione del cannone in Casamatta. Il carro armato, individuato l'obiettivo, ha dovuto marciare direttamente su questo per poterlo colpire col cannone. Cioè, è stato costretto a procedere direttamente sulle armi anticarro senza potersi valere della manovrabilità del carro, divenendo in tal modo facile bersaglio dell'avversario. 1. B Colori mimetici Benché temperati dalla polvere, i colori mimetici del carro M11 non sono adatti all'ambiente in cui si opera. Molto bene mimetizzati sono invece i mezzi corazzati inglesi. Difatti, mentre questi ultimi quasi svaniscono e comunque perdono i contorni, i nostri carri armati M, che pur nelle forme hanno un grado elevato di impercettibilità, sono molto bene individuabili anche a notevoli distanze. C Dotazione di carro L'esperienza ha dimostrata necessarissima l'assegnazione di un buon binocolo almeno ad ogni comandante di Plotone per avere modo di neutralizzare in parte gli effetti del miraggio, il quale, come è noto, rende confuso e falso il paesaggio entro cui si opera. L'assegnazione di un binocolo ad ogni comandante di Plotone renderebbe anche meno grave la mancanza di collegamento radio tra i vari elementi della compagnia. Attualmente solo i comandanti di compagnia e di battaglione hanno in dotazione un binocolo per giunta cattivo. Il binocolo galileano Insomma, neanche i binocoli, gente. Neanche i binocoli, ne andiamoci conto. Vabbè. Allora. Due. Costituzione dei reparti. Come è noto, i battaglioni hanno i servizi accentrati alla compagnia comando. Alla compagnia comando di battaglione. Esiste perciò una sola officina di battaglione ed una sola squadra recupero. L'autofficina non è frazionabile. La squadra recupero non ha mezzi per compiere alcun recupero. Per il recupero di carri in avaria si dovrebbe impiegare la trattrice Breda 35 che è il trattore di adozione per il traino del carro armato sul carrello. Il reggimento non ne ha neppure una e non ha neppure un trattore similare che possa sostituirla. Ogni battaglione ha un trattore pavesi, idoneo al traino dei carri L ma non dei carri M. Ciò non dovrebbe avvenire ma non è possibile fare diversamente. Dopo il combattimento del 5 Corrente la compagnia che aveva combattuto aveva ben sei carri in avaria, tre in conseguenza del combattimento, tre perguasti di carattere meccanico. Eh, credo che le parole di questa delazione siano estremamente eloquenti. Scusate. Per trainare i quali occorsero altri sei carri. È evidente che la compagnia non era più in grado di combattere. Ok. B. Personale specializzato. Il personale del reggimento, pur essendo ben istruito, non è in grado di eseguire grandi riparazioni. Per compiere queste occorre una squadra veramente di operai specializzati, come quelli che la ditta Ansaldo S.p.a. aveva distaccato presso il 32esimo reggimento carrista. Dopo ogni combattimento si dovranno sempre compiere importanti riparazioni. Se si dispone di una buona squadra di operai specializzati, queste potranno essere eseguite immediatamente, rendendo così possibile il pronto impiego dei mezzi. Se non si dispone di tale squadra, i carri armati non potranno essere riparati che molto stentatamente ed anche malamente. Nel caso concreto il combattimento è avvenuto il giorno 5. I carri in avaria erano 6. E oggi sono ancora 6. Se il reggimento avesse disposto della quadra di specializzati, il giorno 6 avrebbe almeno rimesso in efficienza 4 carri e il giorno 7 un altro di questi. Per il sesto occorrono le piastre ed il cannone di ricambio. è l'impossibilità di recuperare i mezzi incidentati o colpiti. Vabbè, vabbè. Allora, in sostanza al reggimento carri M occorre un'organizzazione simile a quella dell'aviazione. Ottimi equipaggi per combattere, ottime squadre di operai per la riparazione e messa a punto dei carri. Ottime squadre di riparazione che ci mancavano. Ottimi equipaggi. Vabbè, quelli che noi mandammo in Libia gli fu detto al comandante non perda tempo ad addestrare la truppa. Vabbè, lasciamo stare. C. Reparti di formazione Costituire colonne di più reparti carri medi, carri leggeri, bersaglieri motociclisti, contraerei, anticarro, eccetera, e utile per azioni di ampio raggio. Occorre però dare al comandante tutti i mezzi e le possibilità di condurre il combattimento. Senza tali mezzi, dopo lanciati i reparti, il comandante della colonna diventa un numero qualsiasi ed il combattimento si svolge caotico secondo la capacità, l'iniziativa ed il valore dei singoli. I mezzi che occorrono ad un comandante sono i collegamenti multipli radio e motociclisti, radio portati su autoveicoli idonei allo scopo, non motociclisti, motociclisti dotati di macchina di sicuro funzionamento. Il reggimento ha delle radio R2-3 ma non ha i mezzi idonei per portarli. Ha pochi motociclisti, appena sufficienti, ha i bisogni del comando di reggimento. Unità cieche e sorde che non potevano comunicare, non potevano ricevere. Eh, il 5 corrente, la colonna era comandata dal maggiore Nicola Benagli, ufficiale superiore a disposizione del comando del reggimento che gli aveva assegnato delle stazioni radio per il collegamento con il comando di reggimento stesso e gli aveva ordinato di trarre delle staffette e portaordini dal plotone bersagliere motociclisti facenti parte della colonna per il collegamento interno della colonna stessa. Avviati i reparti, il maggiore comandante dovette fare lui stesso la staffetta su motocicletta perché i bersaglieri motociclisti non rintracciavano i comandanti di reparto perché non li conoscevano, cioè fallimento completo dei collegamenti all'interno della colonna stessa. Per impedire il caos, combattimento durante, dovetti sostituirmi col mio comando a quello del comandante della colonna. Evidentemente non è pratico costituire colonne di formazione con reparti di varia provenienza e specialità e porre dette colonne agli ordini di comandi improvvisati. Cioè, avete ascoltato bene quello che è scritto in questa relazione? In questo rapporto? Avete ascoltato bene? Avete ascoltato bene? Cioè, ripeto, ripeto questo passo. Allora, avviati i reparti, il maggiore comandante dovette fare lui stesso la staffetta su moto perché i bersaglieri motociclisti non ritracciavano i comandanti di reparto perché non li conoscevano. Cioè, fallimento completo, fallimento completo dei collegamenti nell'interno della colonna. Per impedire il caos, combattimento durante, dovetti sostituirmi col mio comando a quello del comandante della colonna. Evidentemente non è pratico costituire colonne di formazione con reparti di varia provenienza e specialità e porre dette colonne agli ordini di comandi improvvisati. Cioè, questo, mentre gli inglesi si erano addestrati per anni per anni per anni noi comandi improvvisati formazioni arrangiate addestramento buh vabbè 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 i bersaglieri i motociclisti presero contatto sul fronte con alcune autoblinde che marciarono decisamente in avanti i bersaglieri ripiegarono a tergo dei carri M11 le autoblinde inglesi si impegnarono contro i carri leggeri che costituivano la prima ondata dello scaglione anche questi a loro volta ripiegarono a tergo dei carri medi sia perché non sono in grado con il loro armamento di combattere contro l'autoblindo sia perché altri mezzi corazzati inglesi erano apparsi sulle ali provenendo da sud e da nord-ovest i carri medi attaccarono decisamente su una sola linea i corazzati inglesi che ripiegarono immediatamente in direzioni divergenti trascinandosi dietro i carri M i quali in conseguenza risultarono molto sparpagliati ad un certo momento gli M furono soggetti a tiro di artiglieria nemica senza conseguenze successivamente il plotone di ala destra fu colpito ripetutamente da anticarro che misero rapidamente fuori uso tre dei quattro carri infine il nemico scomparve abbandonando nelle nostre mani due carri armati ed abbandonando altri sì altri due carri armati di cui uno in fiamme ad oltre un chilometro dalla posizione da noi raggiunta dopodiché non fu più possibile avere alcuna notizia sul nemico vabbè B insegnamenti l'impiego dei motociclisti nel servizio di esplorazione risponde bene allo scopo e se ne potrà vedere sempre l'impiego nelle colonne corazzate altri sì è utile la loro presenza nella colonna per la raccolta dei prigionieri che non può essere fatta dagli equipaggi dei carri M utile altresì la loro presenza per la loro sorveglianza dei fianchi delle colonne in specie nelle indispensabili soste dopo il combattimento 2 l'impiego dei carri leggeri come elementi di combattimento contro mezzi corazzati avversari è quasi nullo eh perché troppo inferiori di armamento potrebbero riuscire utili come riempimento dello schieramento dei carri M qualora fossero in dotazione in prevalenza di cartucce perforanti eh vabbè e soprattutto qualora in luogo della mitragliatrice Fiat 35 che dà luogo a numerosi inceppamenti fossero dotati di mitragliatrice Breda 38 allora i carri M numero 3 i carri M pur essendo ottime armi devono essere sostenuti da reparti dotati di armamento più poderoso che ne garantisca le spalle e sotto la cui protezione sia possibile recuperare i carri in avaria 3 anzi scusate 4 senza osservazioni è quasi impossibile comprendere lo schieramento nemico e quali siano le sue linee di avanzata e ripiegamento ciò è soprattutto importante in colonia in cui è molto difficile procedere nella giusta direzione e individuare gli obiettivi 5 gli inglesi si sono dimostrati molto manovrieri e molto bene istruiti si è d'avviso che le direzioni di ripiegamento fossero prestabilite per trascinare i nostri mezzi corazzati sul fronte degli anticarro la loro manovra è facilitata dagli ottimi mezzi di collegamento di cui sono dotati e dalla velocità superiore rispetto ai nostri mezzi posseduta dalle autoblindo 6 infine si è d'avviso che non sia conveniente impiegare unità carri armati medi inferiori a quella del battaglione dato che come è stato dimostrato ad ogni macchina in avaria corrisponde la inutilizzazione di due carri quello in avaria è quello necessario per rimorchiarlo 4 proposte propongo che a al reggimento sia assegnato un battaglione carri M13 da trarsi dal 32esimo reggimento carrista ove è in corso di costituzione ciò per ridurre le deficienze del carro M11 e per dare al reggimento una unità corazzata tale che garantisca l'esito di qualsiasi combattimento contro le unità corazzate inglese B i carri M11 siano mimetizzati con colori più intonati all'ambiente locale manco la vernice giusta eh vabbè C sia assegnato in dotazione un binocolo ad ogni comandante di plotone D siano assegnati almeno otto trattrici breda per battaglione per recupero e traino dei carri in avaria E sia assegnato ad ogni battaglione e dal comando di reggimento una squadra di operai specializzati da trarsi dalla ditta Ansaldo Spa F sia assegnato ad ogni battaglione un autocarro dovunque per il trasporto dei mezzi radio tale automezzo dovrebbe essere corazzato almeno parzialmente G ogni operazione svolta da unità corazzate sia sorvegliata da aerei nostri che seguendo le vicende del combattimento diano tempestivamente le notizie che servono a meglio indirizzare l'azione della unità corazzata stessa H che ogni qualvolta unità corazzate debbono svolgere operazioni belliche sia assegnato al reggimento un conoscitore di lingua inglese per l'immediato interrogatorio dei prigionieri onde è meglio indirizzare in base a tali notizie l'azione elementare Watson vabbè i l'assegnazione ad ogni colonna corazzata oltre che due armi contraerei anche di armi anticarro e possibilmente di batterie di artiglieria divisionale trainate da trattori in conclusione sarebbe bene che qualora codesto superiore comando lo ritenesse del caso le colonne corazzate composte da vari elementi carrieme carrielle bersaglieri artiglierie anticarro artiglierie contraeree artiglierie divisionali eccetera fossero costituite ed addestrate preventivamente in vista degli scopi e degli obiettivi da codesto comando riterrà di assegnare firmato il colonnello comandante Pietro Aresca allora questa è la relazione ufficiale del colonnello Pietro Aresca comandante del quarto reggimento fanteria carrista in Libia allora 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 la relazione e ripeto si tratta di una relazione ufficiale si tratta di un rapporto ufficiale di un colonnello del nostro esercito che spiega a